Auditorium, i concerti di Ameria Radio. Buonasera e benvenuti ad Auditorium. Questa sera ascolteremo di Giuseppe Verdi i quattro pezzi sacri e l'inno delle nazioni. Dei quattro pezzi sacri, gli interpreti, soprano Cheryl Studer, coro dell'Opera di Stato di Vienna, l'orchestra sono i Wiener Philharmoniker diretti da Claudio Abado. L'inno delle nazioni, tenore Jan Peerz, coro e orchestra sinfonica della NBC, direttore Arturo Toscanini. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.